Il Monza 1912 ospita oggi con grande piacere i volontari dell'associazione Amici di Rauno Collodro, Aico Onlus. L'associazione lotta da anni promuovendo progetti di solidarietà a sostegno dei malati di tempra e dei diritti più utili. I ragazzi hanno il nome del centro sportivo italiano, accompagnando i 20 giocatori in campo, esponendo l'ostruzione dell'associazione. Forse non lo sai, ma nei due minuti nel mondo la persona come me è te si è male. Due minuti è il tempo di un caffè, di una canzone, di un messaggio. Ogni giorno 729 malati, ogni anno oltre 210.000. Azzeriamo queste cifre, doniamo ad Aico dal 1961 contro la Libra e per l'inclusione sociale. Aif, bastano due minuti. Siamo tutti qui, in curva per te, bandiere più grosse, buon amore.